Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo quarto appuntamento con Dead Space Ora eravamo arrivati sulla specie di nave dopo aver Dobbiamo andare a salvare Qualcuno Quindi Ora vediamo se riusciamo finalmente a incontrare qualche Negro cazzo che ci spacca la minchia Eccoci qua con il nostro Isaac Allora Udala Allora Adesso dovremmo dare energia E prendiamo la batteria E la inficchiamo dentro qua nello buchetto Ok quindi adesso andiamo a vedere sopra se c'è qualche cosa Magari c'è qualche cosa qua sopra Qualche cassa Per noi Qui Ma si può aprire Ora riesco a prenderla da qua Sì e vai Così non devo andare là Chi è? Ma non c'è dentro niente Ma non c'è dentro niente Un cula Un pacco senza sorpresa Bastardi Maledetti Mi avete ingannato Porca troia Ok quindi per cui Qua non c'è dentro niente Qua cosa c'è? Ui Sì Prendiamo questo Poi Cos'è che è? Più ricarica Ok Allora vediamo cosa devo fare Andiamo qua al terminale Vabbè questo terminale L'ho già usato nella Nella demo Quindi So Già E ok Allora Vediamo un po' Ma cosa cazzo vuoi? Non voglio Fare il tutorial Voi fare dalle palle Ok Quindi per cui Vediamo un po' Ricarica Ok 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 abbiamo aumentato La ricarica Qua cosa che c'è? Niente Oggetti Non posso creare un cazzo Nuovo Niente Cosa vuoi? Che cazzo faccio con questa? Uff 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 Ok, non so, non ho la mia palida idea La nuova arma è stata depositata Fammi vedere un po' che cazzo ho fatto Vabbè, qua c'è troppa roba Allora, iniziamo a fare un po' di pulizia Quindi Questo lo mettiamo lì Ok, ce ne portiamo Cos'è Per i momenti bui Arma creata Ok La mia nuova arma, che bella Questa che cazzo serve? Quindi, vediamo un po' Proseguiamo con la nostra avventura Ciao, ciao, ciao amici Oh, che bello Sento Dei rumori Oh, la troia Oh, cazzo Qua c'è già qualche Marciu Oddio Il Cristo Ehi Oh, la vacca Ciao Amico Amico Come stai? Sì Muori 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 Che succede Ho incontrato L'arresto dell'equipaggio Cosa? Ma nessuno può essere sopravvissuti Infatti non sono sopravvissuti Si sono trasformati in quelle cose Ok, che facciamo? Vieni le armi pronte E stai lontano dai condotti di ventilazione Se si avvicinano troppo Colpisci le agli altri Hai capito? Hai capito? Sì, sì Va bene Ok Non posso prendere una Una cosa qui Aspetta Qui e qua Venite Tu? Sei vivo? Morto? Ok Poi non posso neanche cristonare troppo Perché è tipo mezzanotte E, e, e E Ok Spara agli arti Ma va? Ti faccio vedere io come sparo Agli arti Voi siete Orca di quella merda Vacca Puttana Eva Toscatolone Vieni qua da me Che ti faccio Seco pezzo di merda Cos'hai? Porco di Dove è sto Maledetto Bastardo Vieni qua Vieni 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 Faccia di merda Tiè Pezzo del cazzo Do Dove sei? Vieni Vieni qua Che ti do il tuo amico In faccia Oh fanculo Finzo maledetto Eh Sì certo Ora Ricarichi E la Giovanni Ehi c'era un medipack Qui Che cazzo era Amico Non farmi scherzi Dove sei? Dov'è? Dove la lancia Porca Troia vacca Ok Ok Ah sì Eccoli lì in cima Ehi tu Ehi tu Vieni giù Porco di Sua sorella È una grande Puttana Perché non scendete giù Fili di Troia No Non adesso Maledetta In culo A voi Pezzi di merda Rotti in culo Eh sì Devo andare di lì Certo E quello lì L'ammazza Il cugino Allora Io però volevo infilzarlo È troppo divertente Eccolo qua Ehi pezzo di merda Scendi giù Tiè Fanculo Fanculo Tiè Fanculo Cazzo vuoi Oddio caro Vada via Culo Tu e tua sorella Ciao To Te To Te Cos'è che ho trovato Un text log Cazzo me ne frega Del text log Più cadenza di fuoco Yeah Yeah Oh cazzo Ehi amici Mi è Ofcotroia Sbucano da tutte le parti Fuoco Ho testo fuoco Sbucano da tutte le parti Alla condotta di attraversamento Alla condotta Cioè io sono sopravvissuto eh A due episodi ragazzi Sono Isaac Clark E voi siete delle merde Vieni qua Faccia di cazzo Sei brutto come Yeah Muori Prendiamo tutte ste cose qua Che non so cosa servono Ma fa niente C'era un'altra scatola Da qualche parte Ah eccola lì Bam Uh Questo è utile È la cosa più utile Di questo gioco Praticamente È Il medipack E le munizioni Dead space No munizioni No medipack Morte Come la matematica Ehi Chi cazzo sei Ecco Mò arrivano gli Cazzo Se sono evoluti Sono più figli Cazzo te Figli Siamo te Sembri un Sembri uno stronzo Che sta per morire Apri le tue zampettine Dai Zampettali Yeah 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 Oh Così Sfiglio di puttana C'era un altro Maledetto Dove sei Rotto in culo Siete delle merde Io sono Isaac Eh ma va a fare in culo Te tua sorella Vieni qua Che ti emendo col tuo amico O bacio il tuo amico Stronzo Ah ma ci sei anche tu Ciao Ma come sei Simpatico Bestia maledetta Dove corri Vieni qua Vieni qua No qua non me la metto la musica di Iron Man Dai Oh Cos'è Stasi Ma ce l'ho Tutti questi text log qua Vai su Vai su Apri la porta Eeeh Norton ci sei Sì Sono qui Questo dovrebbe bloccarli Per ora Bene L'SOS proviene dall'alto E sembra che io abbia trovato il generatore primario della nave Se riesco a dare energia Dovrei riuscire ad aprirvi il passaggio E tu che farai? C'è un ascensore che sale direttamente sulla guglia Ci incontriamo alle coordinate di El Ok Allora Allora questo lo tiro giù Wow Boing Non mi piace sto posto Non mi piace per niente sto posto amici Vaffanculo Ok Tiriamo giù tutti questi bei cosini qua E poi Quanti sono? Tre? Quattro? Tre Vai giù anche te Ok Mantieni E io mantengo E' fighissimo Oh cazzo Oh cazzo Ah la parava un culo No Lasciami Oh cazzo Mostri Mostri Via Per i pack Parati in vena Ma che cazzo Merda Sì 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 Ma ora arriveranno altri? Beh ovvio Oddio Da dove? Oh cazzo figa Lo sai Perché non vieni? Ho paura Ma scherzo Miau Bommete Dai dove sono C'ho una mira del cazzo oggi Dai spunta i tuoi cazzi di cose Dove sono? Ma come? Già finiti? Io che mi stavo divertendo Sì sì Bella idea Facciamoli in difficile Così ti toccano una volta E ti tirano giù mezza vita Oh porca troia Che cazzo è sto cosa Abbiamo attivato l'ascendore Oh figa Oh figa merda Facca Ciao dove sei? Dove sei? Io me la Io me la svigno Via Ma come sei Carino Yeah Bella uccisione Apertura in corso Panculo Apri Buonanotte Buonanotte In culo a tua sorella Abbiamo preso l'ascensore Sono Isaac Clark Ehi amici Eccomi Yeah Sono io E ma brutta puttana Bella zio Il marchio Come se avessi scelto Io lo so mi dispiace Ma ho così tanto da dirvi Eh va bene Forza Dobbiamo andarcele subito No non ancora Isaac Dobbiamo fermare il mare Le tracce portano All'alloggio della Mirand Ha ricoperto le pareti Con disegni del mare Là ci sono le risposte Lo sento Non possiamo andarcene Prima di trovarne Ma non aveva perso Un occhio questa Noi ce ne andiamo Io penso Abba che il tuo assalto Sforza Forza Penso a tuo equipaggio Sempre di più Bene ragazzi Siamo arrivati all'inizio Del capitolo 4 Che Ve lo farò la prossima volta Quindi Questo gameplay Finisce qua Amici Amiche Dal tubo E vi aspetto al prossimo gameplay Di Death Space 3 Ciao ciao a tutti Da GeneticDNA Ciao a tutti